6.59 Palmieri. Identico Santerini? 6.60. Che però è ritirata. Sì. Ok. Invito a ritirlo e parere contrario. Perfetto. Dopo l'articolo 6, c'è il servizio. Ok. Relatore di minoranze. Siamo al 6.1. Parere contrario. 6.51. 6.52. Identico. Parere favorevole. 6.53. Ci rimettiamo all'aula. 6.54. Parere favorevole. 6.55. Favorevole. 6.56. Favorevole. 6.8. Favorevole. 6.58. Immagino favorevole. Favorevole. 6.59. Non è segnalato. 6.60. Santerini. Ci rimettiamo all'aula. No. È segnalato, ma è il 6.59 Palmieri. È identico al Santerini, ma quello non è segnalato. Il Palmieri lo è. Vabbè. Comunque lo quale ci rimettiamo all'aula. Perfetto. Governo. Conforme relatore maggioranza. La ringrazio. A questo punto siamo al 6.1. Contrario commissione governo. Contrario relatore minoranza. Votazione aperta. Manfredi. Manfredi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo agli identici. 6.51. 6.52. Favorevole commissione governo. Relatore di minoranza. Votazione aperta.